Nel corso di un incontro organizzato all'Aula Pucci, il consigliere di Dipartiamo dai cittadini Petrelli chiede alla regione di accelerare i tempi per la risoluzione della questione usi civici. Nonostante da giorni il cielo di Civitavecchia sia colorato dal fumo proveniente dalle navi da crociera e i valori misurati dalle centraline di Arpalazio sono al di sotto della soglia limite. Si intitola Un professore, la serie tv che andrà in onda sulla RAI e che vede protagonista il Civitavecchiese Alessio Gaudino, tra gli attori Alessandro Gasman. Basta è il titolo del nuovo sonetto di Pasquino, l'anonimo poeta dialettale parla di Tore Valdaliga Nord e del bisogno del territorio di uscire dalle servitù ambientali. Si chiama Brando Gretarsson, il nuovo attaccante del Civitavecchia Calcio. Il colpo del DS da Ponte è arrivato dopo il grave infortunio al classe 98 Cerroni. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. È passato un mese da quando prima gli esponenti locali di Fratelli d'Italia, poi quelli del PD che organizzarono il 5 marzo anche un convegno online, hanno dichiarato che la Regione Lazio in merito all'annosa vicenda degli usi civici, finalmente aveva trovato la soluzione amministrativa individuata in una ricognizione catastale. Questo impegno formale è stato confermato anche dallo stesso capo di gabinetto della Regione, il dottor Ruperti, proprio nel corso di quel convegno. Stamattina nel corso di un incontro organizzato all'Aula Pucci, il consigliere di Ripartiamo dai cittadini Vittorio Petrelli ha chiesto alla Pisana di accelerare i tempi di intervento perché i cittadini continuano a soffrire la situazione. Sentiamolo in questa intervista. Vittorio Petrelli, una nuova conferenza stampa, questa volta anche con un po' di pubblico all'Aula Pucci per tornare a chiedere alla Regione di intervenire sulla vicenda usi civici. Qual è la vostra richiesta? Noi chiediamo alla Regione, o meglio al capo di gabinetto del Presidente Zingaretti, di mantenere gli impegni pubblici che ha preso il 5 marzo. Lui ha detto in quel convegno online che la Regione era disponibile a fare una nuova perizia demaniale e questa sarebbe servita per aiutare alla soluzione amministrativa della questione e poi che per quanto riguarda la sentenza Antonelli, vista che era passata in giudicato, che venisse applicata dagli uffici e che lui aveva mandato agli uffici di provvedere, visto che tutto questo è in linea con la legalità. Sono gli uffici che da tempo si oppongono e mantengono questa illegalità della situazione. A tutt'oggi, dopo un mese, non è successo niente. Anzi, è successo una cosa che ci dispiace, che gli uffici ci hanno fornito di una lettera, di una risposta, che dice che la Regione, per venire in aiuto dei cittadini, vuole andare ad adiuvandum nelle cause che sono state aperte presso il Tribunale. Ma noi la soluzione giudiziaria l'abbiamo imboccata, abbiamo visto anche che abbiamo vinte le due cause, vinceremo anche le altre, in virtù degli atti che abbiamo trovato. Però la soluzione giudiziaria comporta tempi biblici. Le promesse e gli impegni che si è preso il dottor Ruberti, invece, il capo di gabinetto di Zingaretti, riguardavano soluzione amministrativa e l'applicazione di una sentenza passata in giudicato. Questo contraddice quello che invece stanno facendo gli uffici. Allora, noi oggi vogliamo dire al capo di gabinetto che le sue impegni erano intenzioni reali o solo fumo negli occhi? Tutti coloro che si iscriveranno si incontreranno spiritualmente il venerdì santo alle 20.15. Nel loro cuore, che è il cuore di tutti, facendo una preghiera per coloro che sono morti a causa del Covid-19 e se vorranno potranno mettere una candela sul davanzale e chi lo desidererà farà risuonare la marcia funebre di Chopin. Era l'appello lanciato nei giorni scorsi dal priore del lanci confraternita del gonfalone David Trotti nella comunicazione ufficiale che per il secondo anno consecutivo non sarebbe stato possibile rispettare la centenaria tradizione della processione del Cristo morto. Ebbene, qualcuno ha preso la parola del priore e ieri sera, attorno alle 20.30, nella zona di Largo Dardio, attraverso un potente impianto di amplificazione, è stata fatta risuonare la marcia funebre di Chopin. Meravigliosamente interpretata da un'archestra sinfonica, il brano, tradizionalmente intonato dalle bande che fanno parte della processione del Cristo morto, ha in parte compensato l'assenza del corteo degli incappucciati, con le catene ai piedi, una tradizione sentitissima in città che nello scorso secolo era stata interrotta soltanto in occasione del periodo successivo ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E non arrivano buone notizie nel consueto report dell'ASL Roma 4 e della Regione Lazio in merito della situazione Covid-19 in città. Oggi si registrano 22 nuovi casi positivi sulla media di quanto avvenuto negli ultimi 10 giorni. Molti meno invece i guariti che nelle ultime 24 ore sono stati 9. In tanti sono stati eseguiti 131 tamponi rapidi al centro diagnostico Bonarroti. Il tasso di specificità però è pari al 4,95% e tra i positivi riscontrati due sono donne e tre uomini. Due sono residenti a Civitavecchia, due a Santa Marinella e uno fuori dal distretto ASL. Nonostante il cielo di Civitavecchia, soprattutto nell'area portuale del lungomare, sia dipinto dal fumo emesso dalle ciminiere delle navi, da crociera presenti all'interno e all'esterno del porto, i valori degli agenti inquinanti continuano a rimanere molto al di sotto dai limiti fissati dalla legge. L'ultimo report emesso dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale evidenzia una situazione assolutamente tranquillizzante. Il servizio. Il fumo è tanto e si vede, ma evidentemente e soprattutto fortunatamente i suoi riflessi sull'inquinamento atmosferico non sono per niente rilevanti. Nonostante da giorni il cielo di Civitavecchia sia colorato dal fumo proveniente dalle navi da crociera che si trovano in rada o ormeggiate all'interno del porto, i valori misurati dalle centraline che si trovano nel perimetro urbano sono di molto al di sotto dei limiti di allarme fissati dalla normativa vigente. Lo certifica Arpalazio nel consueto report settimanale nel quale evidenzia i livelli raggiunti dai diversi agenti inquinanti controllati. E nell'ultimo pubblicato, quello che riguarda la settimana compresa dal 22 al 28 marzo, la situazione può definirsi davvero ottimale, soprattutto in base ai dati che emergono dalla centralina ubicata all'interno dello scalo marittimo. Nello specifico, per quanto concerne gli ossidi di azoto, la centralina di Villa Albani, che nella precedente osservazione aveva fatto registrare 33 microgrammi al metro cubo, è scesa a quota 26 microgrammi. Al porto si è scesi da 33 a 29 microgrammi, in via Morandi da 29 a 26 e in via Roma da 45 a 33. Vale la pena di ricordare che il livello di allarme scatta sopra i 200 microgrammi. Lieve incremento rispetto alla settimana precedente del particolato, ovvero delle polveri. Il PM10 è passato da 12 a 19 microgrammi al metro cubo in centro città, da 10 a 12 microgrammi al porto e da 16 a 17 microgrammi a Villa Albani. Nel caso del PM10 la soglia di allarme scatta sopra i 50 microgrammi. In lieve crescita anche il monossido di carbonio, misurato in città a 0,5 microgrammi al metro cubo e nella centralina di Fiumaretta a 1,1 microgrammi al metro cubo. Sempre per quanto riguarda Fiumaretta, in leggera discesa il dato relativo al benzene è passato da 0,4 a 0,3 microgrammi. Situazione ambientale ottimale nei quartieri. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, il valore più basso è stato rilevato ad Aurelia con soli 5 microgrammi, seguono Sant'Agostino con 6, Faro e San Gordiano con 11, Campo dell'Oro con 12 e Fiumaretta con 18 microgrammi. Per quanto riguarda il particolato, si va dagli 8 microgrammi misurati ad Aurelia ai 14 del Faro e di Campo dell'Oro, ai 15 di Sant'Agostino e ai 16 di Fiumaretta per finire con i 17 di San Gordiano. Un intero bosco sradicato nella zona dell'Infernaccio sotto le colline dell'Argento. Questo è quanto constatato da Paolo Giardini e Valentina Flacchi, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Fareverde, ai quali sono pervenute delle segnalazioni da parte dei cittadini. I volontari hanno interpellato il Vice Sindaco e Assessore all'Ambiente Manuel Magliani, il quale ha prontamente risposto che le autorizzazioni sono regionali in quanto la competenza è delle regioni e che è stato richiesto il supporto dei carabinieri forestali per la verifica del caso. Un appello affinché le attività commerciali del territorio possano osservare degli orari in linea con le restrizioni attuate dal Governo e quanto fa l'Amministrazione Comunale tramite l'Assessore al Commercio Emanuela Di Paolo. In particolare per il giorno di Pasquetta spiega Di Paolo aspichiamo che da parte dei vari esercizi, compresa la grande distribuzione, possa essere applicato un orario ridotto con chiusura alle ore 14, così da garantire anche ai dipendenti di poter godere almeno in parte della festività. E sono centinaia di pacchi solidali, colombe e pizze di Pasqua che l'Amministrazione Comunale ha consegnato alle principali associazioni ed enti del comprensorio. Ad effettuare le consegne insieme alla Croce Rossa, il Sindaco Ernesto Tedesco, l'Assessore Cinzia Napoli e la Presidente del Consiglio Emanuela Mari. Per la prima volta a Pasqua, dichiaro il Presidente Mari, abbiamo voluto effettuare questa azione di solidarietà a coloro che sono maggiormente in difficoltà. Alessandro Gasman torna a Civitavecchia. In questi giorni il popolare attore è venuto in città per girare la serie TV Un Professore che andrà in onda prossimamente sulla Rai. Si tratta di una fiction dall'alto valore sociale perché si parlerà del mondo delle carceri, soprattutto quelle minorili. E tra gli attori che stanno partecipando c'è anche il Civitavecchiese Alessio Gaudino recentemente balzato agli onori delle cronache per aver preso parte alla serie TV Speravo De Mori Prima, incentrata sulla vita del campionissimo del calcio Francesco Totti ed in onda sui canali Sky. Ascoltiamo Gaudino in questa intervista. Alessio Gaudino nuovamente qui a TRC perché dove è partecipato alla serie TV su Francesco Totti. Questi giorni a Ciechia sono in corso le diprese per il film con Alessandro Gasman. Un professore, tu sei tra i partecipanti, ci racconti di questa esperienza. Allora, un'ennesima esperienza nel mondo del cinema, devo dire entusiasmante come la prima. Diciamo la prima che aveva un legame un po' più affettivo con Francesco Totti. Però anche questa è stata veramente interessante. Ho avuto anche il piacere di parlare con Alessandro, è un grande attore. E soprattutto è una persona molto umile. Si è messa a parlare con tutti noi, ci ha dato delle dritte, dei consigli da osservare in questi periodi difficili. L'abbiamo anche visto immortato nelle foto che ci ha fornito Grotta Oleglia, che ringraziamo. Cosa riguarda questo film? Si parla di carcere, di carcere minorile, quindi un messaggio sociale anche importante, di spessore. Sì, diciamo che il messaggio principale che vuole dare la serie è quella che i ragazzi, specialmente perché appunto trattandosi di un carcere minorile, non devono mai arrendersi al proprio destino in età così giovane. Tutto quanto si basa sul rapporto che c'è fra un professore e appunto Alessandro con un ragazzo che ha avuto molti problemi e si è ritrovato lì. Alessandro da professore, ispiratosi a Dante, cerca di metterlo nella retta via. Ci riuscirà? Questo non lo sapremo. Qual è il ruolo che sta interpretando? Allora praticamente noi, io insieme ad altri ragazzi, sempre di Civitavecchia, abbiamo fatto gli altri detenuti, diciamo, di questo carcere, quindi ci siamo messi lì, abbiamo giocato a bigliardino, abbiamo fatto scene molto divertenti, devo dire, ecco. E in più stavamo vicino proprio ai protagonisti, o in primis, diciamo, quindi sicuramente mi vedrò in tv. Si sa già quanto uscirà questo film e dove andrà in onda? Allora, andrà in onda su Rai 1, tutta quanta le serie, e l'uscita dovrebbe essere o nella primavera 2022 o addirittura in autunno, quindi a ottobre. Diciamo che Covid permettendo ad aprile, purtroppo quando poi non si può più registrare per una serie di motivi, viene stoppata la produzione e poi viene ripresa. Infatti c'è stata ieri la ripresa a Civitavecchia ma ci doveva stare due mesi fa, quindi è un po' così. Raffresca anche la tua partecipazione al, speravo di morire prima, la serie di motivi sottotti su Sky, sono appena andate in onda le puntate, come è stato a rivederti su Sky? Molto bello, molto bello. Diciamo che ancora si sono visti solamente dei piccoli frammenti. Le ultime due puntate dovrebbero essere proprio quelle che io ho girato vicino all'attore protagonista, quindi sicuramente aspettiamo con ansia le ultime due puntate. È molto bello, il film è ben riuscito. Poi vederlo comunque in produzione è totalmente differente, come già avevo detto l'altra volta, che vederlo in tv, perché in tv non si notano dei piccoli particolari che, mentre si registra, si notano molto di più. Un'occasione davvero straordinaria per gli studenti dello stand-up all'indirizzo turistico Benedetto Croce che hanno potuto dialogare sul tema la censura in uso e un'Unione Europea nella stampa e sui media, con due personalità di primissimo piano nel mondo dell'informazione. L'avvocato Ugo Colella, managing partner dello studio Colella e Zefuti di Washington, ha affrontato il tema della normativa sulla libertà di stampa negli Stati Uniti, facendo riferimento ai fatti di attualità, come ad esempio la censura da parte di alcuni social media nei confronti dell'ex presidente Trump. Poi Julie Tate, giornalista del The Washington Post, ha appassionato gli studenti, illustrando in che modo svolge il suo lavoro, verificando le notizie, cercando sempre di andare alla fonte, portando numerosi esempi tratti dalle sue esperienze quotidiane di giornalista in prima linea che le ha fatto guadagnare il premio Pulitzer nel 2016. Nuova iniziativa delle farmacie di CSP per mercoledì 14 aprile in programma Flebo Day, una giornata di screening dedicata al test sul reflusso venoso che si svolgerà presso la farmacia comunale Aurelia in via Niccolò Paganini 7, nella zona di Borgata Aurelia. La consulente della Weekend Pharma, dottoressa Emanuela Scanu, e la direttrice della farmacia Aurelia, dottoressa Alessandra Fabri, mediante l'ausilio di una tecnologia chiamata Venoscreen, forniranno informazioni riguardo lo stato di salute sulle vene e degli arti inferiori. L'esame è rapido, il paziente è seduto in maniera confortevole, senza indumenti che stringono, effetto alla procedura guidata dall'operatore per una durata massima di 5 minuti. Lo screening è diretto a tutti gli interessati, uomini e donne, e il costo è di 15 euro. Per potersi prenotare, rivolgersi direttamente alla farmacia Aurelia, da lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13, oppure telefonare allo 0766 560176. Si intitola Basta, il nuovo sonetto di Pasquino. L'anonimo poeta dialettale parla di Torre Valdaliga Nord, dopo l'intervento del direttore generale di Enel Italia, Carlo Tamburi, che ha spiegato che il futuro della centrale è a turbocass, e si chiede se non sia il caso di dire Basta per guardare al futuro con più ottimismo. Sentiamo. Ogni vent'anni arriva la proposta di cambiare carburante alle centrali, dar petrolio alle gasse naturali, passando per carbone, che gli costa. Ci sta chi pensa a una città disposta, parlando di interessi generali, a non vedere gli effetti micidiali, e a dar ogni volta il proprio nulla osta. Ma non sarà il momento di Basta? De pensare al mare, al clima, al termalismo, al porto, alla natura che è rimasta, e al futuro guardare con l'ottimismo? Non siamo una città da venne all'asta, e non può vincere sempre il servilismo. E voltiamo pagina, parliamo di sport. Sta per concludersi la seconda settimana di allenamenti per il Civitavecchia, che intanto pensa al mercato per rinforzare la rosa. Dopo l'infortunio occorso a Samuele Cerroni, infatti, il reparto offensivo è quello più sguarnito. In questo senso, la società nerazzura dovrebbe interesserare nei prossimi giorni l'italo-islandese Brando Gretarsson. Si tratta di un attaccante classe 2001, cresciuto calcisticamente nella vigor per Conti, e che poi è passato alla Lazio e due stagioni fa ha segnato 19 reti con le Juniors Elite del Savio. Sentiamo l'intervista al direttore sportivo da Ponte, che parla di mercato e del nuovo campionato di eccellenza. Il clima che si respira a Quacevecchia è un clima sicuramente positivo, è un clima che ci porterà a questo inizio di campionato, che ci sarà l'11, e ci porterà a provare a giocarcela con tutti, perché comunque il nome e la città che rappresentiamo ci impone di doverci provare, quindi sicuramente ci proveremo a giocarcela con le altre pretendenti, con un vantaggio, ovvero quello di non dover avere l'assillo, di dover necessariamente vincere. Riguardo al discorso attaccante, sì, innanzitutto diciamo che voglio fare un commento sull'infortunio di Samuele e gli faccio ovviamente a nome di tutta la società un in bocca al lupo affinché possa rientrare il prima possibile per darci manforte. L'esito degli esami purtroppo è stato non molto positivo perché è stata evidenziata la rottura del crociato, quindi Samuele si dovrà operare, lo farà presto, lo farà già in settimana, e quindi ci auguriamo di poterlo avere a disposizione per la stagione che inizierà, diciamo la prossima stagione. Per quanto riguarda il discorso mercato stiamo facendo delle valutazioni insieme alla società, quindi insieme al presidente, insieme al ministro e al suo staff per capire se è il caso di dover intervenire. Intanto comunque dovremo concludere in queste ore con un ragazzo 2001 che proviene dal Monte Rotondo Scalo che si chiama Brando Gredarson, un ragazzo che appunto è un classe 2001 e verrà intanto a darci manforte in questo momento. Per quanto riguarda la formula, sì, noi siamo stati diciamo sfortunati, che abbiamo, diciamo siamo andati incontro a questo calendario che ci porterà a fare quattro gare in casa e sei in trasferta, però ovviamente andiamo avanti perché comunque è giusto che sia così, quindi ne prendiamo atti e andiamo avanti. Per quanto riguarda il format del campionato stesso, sicuramente andremo incontro a un campionato complicato perché tutti si stanno rinforzando, molte squadre stanno facendo un mercato importante, ci sono soprattutto nel girone A almeno 7-8 pretendenti che possono provare a fare il salto di qualità ed è il salto di categoria, quindi sarà un campionato sicuramente complicato, ma sono convinto che sarà molto avvincente. I nuotatori civitavecchiesi potranno tornare ad allenarsi al Palagalli, l'annuncio arriva dal delegato allo sport Marco Iacomelli a seguito di un incontro svoltosi a Palazzo del Pincio per trovare un accordo tra la società della presidentessa Federica Feoli e il consorzio gestore dello stadio del nuoto formato da N.C. Coser e Centuncelle. Fino ad ora non è stato possibile trovare degli spazi per gli allenamenti, afferma Matteo Iacomelli, non per mancata disponibilità del gestore del Palagalli ma per le questioni legate alla sostenibilità dei costi visto che con le mancate entrate nel settore commerciale bisogna prestare massima attenzione. Sono soddisfatto del fatto che tutti facciano la loro parte e adattarsi alle varie esigenze per permettere a questi nuotatori che portano alto il nome di civitavecchia di poter svolgere al meglio la propria attività. Noi come Comune abbiamo semplicemente coordinato la situazione per risolvere la questione. Iacomelli fa un riferimento anche sulla situazione generale del Palagalli, La strada da portare avanti per mantenere aperto l'impianto, conclude il delegato allo sport, deve essere quella dell'efficientamento energetico. È un iter lungo ma stiamo facendo un buonissimo lavoro che speriamo di portare presto a termine. Il Civitavecchia ha deciso di rinunciare alla partecipazione ma ci sarà comunque un'impronta nella nostra città nel campionato di Serie C1. Infatti dopo la decisione della formazione di Simone Tangini il pivò Daniele Lipparelli ha deciso di proseguire comunque la stagione. Il giocatore si è infatti accusato alla Ranova nella sua prima esperienza lontano da casa. Per l'ex Futsal Academy la stagione dovrebbe procedere, prendere il via il 17 aprile. La Ranova è stato inserito nel girone B. E con questo è tutto, termina qui questa edizione del TRC Giornale ma prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it Grazie per l'ascolto, auguro a tutti una buona Pasqua. Grazie. 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 Grazie a tutti.